essere o non essere questo è il dilemma se sia più nobile nella mente soffrire i colpi di fionda ai dardi dell'oltraggiosa fortuna o prendere le armi contro un mare di affanni e contrastandoli porre loro fine morire dormire nient'altro e con un sonno dire che poniamo fine al dolore del cuore e ai mille tumulti naturali di cui erede la carne è una conclusione da desiderarsi devotamente morire dormire forse sognare sì qui è l'ostacolo perché in quel sonno di morte quali sogni possono venire dopo che ci siamo cavati di dosso questo groviglio mortale deve farci esitare è questo lo scrupolo che dà alla sventura una vita così lunga perché chi sopporterebbe le frustate e gli scherni del tempo il torto dell'oppressore la contumelia dell'uomo superbo gli spasmi dell'amore disprezzato il ritardo della legge l'insolenza delle cariche ufficiali e il disprezzo che il merito paziente riceve dagli indegni quando egli stesso potrebbe darsi quietanza con un semplice stiletto chi porterebbe fartelli grugnendo e sudando sotto il peso di una vita faticosa se non fosse che il terrore di qualcosa dopo la morte il paese inesplorato dalla cui frontiera nessun viaggiatore fa ritorno sconcerta la volontà e ci fa sopportare i mali che abbiamo piuttosto che a correre verso altri che ci sono ignoti così la coscienza ci rende tutti codarti e così il colore naturale della risolutezza è reso malsano dalla pallida cera del pensiero e imprese di grande altezza e momento per questa ragione deviano dal loro corso e perdono il nome di azione e quindi la sua la sua e la sua Grazie a tutti